Un pomeriggio senza pallone e scarpe chiodate tra i piedi, vissuto nelle stanze dei bottoni di Palazzo di Città. Al ritorno sul sintetico del Manzichi Apolin per riprendere gli allenamenti dopo il pareggio a reti bianche di domenica scorsa contro la vetrana nell'ottavo turno del campionato di eccellenza, il Barletta 1922 ha trovato le porte degli spogliatoi dell'impianto di Via dei Mandorli chiuse. Un evento che ha comportato un civile dibattito tra una delegazione della società guidata dal presidente onorario Giuseppe Pollidori, il sindaco di Barletta Pasquale Cascella e la dirigente comunale Rosa di Palma. Nel corso dell'incontro sono state affrontate le questioni della mancata autorizzazione per ragioni tecniche da parte dei competenti uffici dell'ente relativa all'installazione e all'utilizzo degli impianti pubblicitari all'interno dello stadio. Per tale motivo la società sportiva si era astenuta in maniera provocatoria nel mese di ottobre dal pagamento della quota ticket per la fruizione della struttura negli allenamenti settimanali, un atto al quale l'amministrazione ha replicato impedendo l'accesso ai locali nella data del 31 ottobre. Il confronto, deciso ma cordiale, ha portato a una mediazione esposta dallo stesso Pollidori. Ci siamo recati presso la struttura del Manzichi Apolin e purtroppo abbiamo visto che l'impianto era chiuso perché è da quasi due mesi che c'era un braccio di ferro con l'ufficio sport, la dirigente, perché volevamo risolvere dei problemi per dare visibilità ai nostri sponsor con dei jumbo screen, con dei mezzi che fanno vedere questa pubblicità e purtroppo non riuscivamo ad attivare questo e loro ci hanno chiuso gli impianti perché noi per ottenere questo non abbiamo pagato gli ultimi venti giorni di questo famoso ticket che il Barletta Calcio è costretto a pagare e quindi si è verificata questa situazione. Però ora abbiamo risolto il problema che da giovedì loro ci autorizzano, noi continueremo a pagare e quindi da giovedì ricominceremo a fare gli allenamenti. Abbiamo fatto anche una richiesta di avere la possibilità di andare al Puttilli a fare almeno gli allenamenti a porte chiuse, la verificheranno con il CONI e con i tecnici se ci sarà questa possibilità. La controversia ha trovato una soluzione condivisa che ha sostenuto il sindaco Cascella, avrebbe potuto e dovuto essere individuata per tempo evitando nuove tensioni che non giovano a nessuno. Giovedì 2 novembre la squadra riprenderà i lavori previo pagamento del ticket.